L'ambito dei produttori è un ambito altamente competitivo, cioè nel senso che voglio dire io sono una società di produzione, lui ne ha un'altra. Inizialmente oltre a raccontarci cosa vuol dire fare network, cosa vuol dire pensare a un progetto, cosa vuol dire capire quanto può costare, dove va, cosa serve per farlo funzionare davvero e fino in fondo, in qualche modo ti aspetto da Alessandra che ci aiuti anche a colmare tutti quei buchi e quelle labure che, quindi di cui principali, due precedenti attori e produttori, Genova di Cosa si comisce e Alba, che magari hanno lasciato nell'uditorio. Iniziamo ad un inizio a raccontarmi l'idea, io in realtà ho tre capelli e sono arrivata in Liguria cinque, ormai sei anni fa. Il mio capello principale l'ha citato Diego Pio Amalia Workshops, che è un corso di sviluppo per produttori internazionali, nel senso che io passo di fatto l'80% della mia giornata, nella mia giornata, non solo la pratica per giornata, ma a cercare di aiutare i produttori internazionali e europei, soprattutto, a strutturarsi non tanto più attente quanto con i professionisti. Quando, come dire, ci si ritrova, dopo un po', c'è un po' la sensazione che i produttori hanno un grande problema, nonostante siano visti come delle figure magiche, e cioè che fanno molta affidità a farsi riconoscere come parti creative. Quindi il primo mito da scadare è che i produttori si appologamente esotivi. Grazie a tutti.